Il taglio che assume la Naples Shipping Week è di tipo di protezione, di tutela ambientale, quindi ci vede protagonisti da sempre, da quando c'è questa rinnovata coscienza ambientalista da parte anche della popolazione, dell'utenza marittima. E quindi ci vede protagonisti dal punto di vista contenutistico in tutte le manifestazioni, sono 40 eventi culturali, è un momento molto importante di valenza internazionale per Napoli e noi siamo presenti ovviamente per garantire con la nostra presenza il nostro contributo anche intellettuale e operativo alla tutela dell'ambiente. Sì, il bilancio è senz'altro positivo perché noi abbiamo continuato a effettuare i nostri controlli sulle navi, però abbiamo anche spostato l'attenzione sugli scarichi fognari, sugli scarichi tellurici, quindi sui depuratori. Noi abbiamo un'operazione in corso, l'operazione fiume, che prevede anche il controllo dei fiumi e delle eventuali emissioni nel mare di materiale non consentito. Per noi la formazione è molto importante, la formazione anche delle scolaresche. Abbiamo sicuramente implementato anche il programma scuola-lavoro, quindi che ci vede protagonisti anche nel campo della formazione, con scolaresche che sono venute in capitaneria, hanno potuto toccare con mano l'importanza e l'operatività dei nostri mezzi nautici e della nostra sala operativa.